benvenuti a tappeto rosso programma di approfondimento sui personaggi famosi una domanda dov'è il luogo più sicuro qui in questo campeggio per montare una tenda qui in questo campeggio allora tu sei uno scout vero ti avevo riconosciuto allora tu esci da quella porta di la si esci fai 500 metri c'è scritto c'è un insegna grande che ho scritto banca delle marche allora tu entri lì dentro e ti fai vedere bene con la telecamera c'è una telecamera tu ti fai vedere bene sulla faccia poi ti metti un bel cuffio un passamontagne ce l'hai il passamontagna bravo vedi come tutti i bravi lupetti ce l'hai poi una volta che sei entrato lì dentro tu devi dire mani in atto e tutti ti aiuteranno a montare la tenda la parola d'ordine è quella grazie puoi andare buona strada buona caccia buona caccia anche a te ciao 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 sigla l'ospite di questa sera tappeto rosso è cesare paciotti buonasera paciotti se paciotti non va ai soldi i soldi vanno a paciotti buonasera paciotti è tappeto rosso buonasera buonasera siamo felicissimi di averla con noi non lo è altrettanto per me ah non lo è altrettanto per me scusate sono un po sudato e si vedo che sta facendo ginnastica sì mi sto allenando perché voglio tenermi in forma mensana in scarpe sane ah bene ve l'ho detto che ho fatto un nuovo tag screen no sì eccolo qui lo faccio vedere è il mio nuovo tag screen sì 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 qui digiti e poi puoi rispondere ne arriva una telefonata scusate digitare uno per mano via digitare due per mano via bucarest digitare tre per cellulare paciotti privato lo tacco sta lo sopra attacco come la pelle del coccodrillo sta la nappa fra se vai a lavorare con delle valle che prende cani porci va bene scusate impegni di lavoro ah bene paciotti oggi vedo si trova al lago sì il lago il lago calma la mia anima sono al lago perché a me il lago mi piace mi piace l'acqua mi piace tutte le cose che sono un po' acquose così ecco senta paciotti torniamo al suo lavoro principale diciamo ho visto che è no ma perché ce la sei diciamo che cosa dicevo ho visto che lei ultimamente ha griffato si sto griffando il mondo è il mondo avrà la mia firma anche sulla luna ci sarà scritto cesare paciotti perché caro gallucci sì io ho iniziato passando le sole a dopo di che ho fatto le scarpe dopo le scarpe ho fatto i gioielli dopo i gioielli ho fatto le rotonde griffate paciotti e adesso mi sto allargando completamente mi sto allargando completamente ho una lista qui di cose che io ho griffato ah beh ci dica allora ci dica ad esempio gli ossi per i bulldog ah sì quelli che tu lanci sono griffati paciotti ho capito sì poi anche le punte per i trapani sì sì diverse misure gli stop a muro griffati paciotti gli accendini gli occhiali tridimensionali griffati paciotti le pensiline degli autobus griffate paciotti i rasoi griffati paciotti la lancia d'acqua quella per pulire le macchine ce l'ha presente come anche quella lì griffata paciotti anche l'acqua che esce non esce acqua esce il mastrice è sempre griffato paciotti addirittura sì 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 è sempre griffato i lampioni le rotonde le lampade ad alto consumo perché io c'ho risordi c'ho risordi quindi le lampade ad alto consumo gli autogrill griffati paciotti il cloro nelle piscine griffato paciotti e ultimamente non per vantarmi ma sono entrato anche nel mondo della chiesa addirittura sì se lei ad esempio va a san pietro sì di fronte all'altare troverà due ceri con scritto paciotti che anziché emanare il fumo emanano il mastrice e anche il confessionale sullo stile paciotti e cioè c'è dentro la lampada solare e l'aria condizionata addirittura e nella grata attraverso la quale parli con il parroco c'è scritto pace paciotti bene allora paciotti noi la lasciamo in pace sì grazie sì se potete mastriciare andare via io sarei tutto contento bene allora ci vediamo la prossima puntata di tappeto rosso grazie paciotti grazie per la prossima puntata di tappeto